Ultime 24 ore in zona arancione per l'Abruzzo e poi da domani dominerà il giallo. Bar e ristoranti torneranno quindi operativi con servizio al tavolo fino alle 18, poi ok all'asporto fino alle 22 ma solo per i ristoranti. Sempre aperti i negozi ma chiusi i centri commerciali nel weekend. Nei feriali inoltre si potranno visitare i musei. Capitolo mobilità, permessi gli spostamenti dalle 5 alle 22, ma non sarà possibile varcare i confini regionali se non per motivi di lavoro, studio e necessità da autocertificare o per rientrare presso il domicilio, la residenza o l'abitazione, sia anche ai trasferimenti nelle seconde case extra a Abruzzo. Nella stessa fascia oraria sarà poi consentito andare da amici e parenti una sola volta al giorno in due persone, con figli minori di 14 anni. Il via libera del Ministero della Salute al nuovo cambio di colore è arrivato in seguito al miglioramento dei dati nel periodo 18-24 gennaio, inferiore alla soglia di allarme di 1 l'indice di contagiosità R con T. Sotto i valori critici del 40 e 30% i posti letto occupati in area medica e in terapia intensiva. Il livello di rischio complessivo passa tuttavia da basso a moderato e in tal senso l'incremento dei casi nell'ultima settimana e la presenza sul territorio di altre varianti del virus impongono rigore nei comportamenti per conservare la zona gialla. Confido che i cittadini siano ancora più attenti al rispetto delle prescrizioni anti-covid, sottolinea il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo.